con il patrocinio del comune di Angri l'associazione culturale BIG amici di San Giovanni Angri presenta in collaborazione con Spettacolando serata l'insegna del divertimento domenica 26 dicembre alle 17 in piazza Doria ad Angri domenica 26 dicembre alle 17 in piazza Doria ad Angri serata l'insegna del divertimento trampolieri, giocolieri, folletti, mascot Disney clown, baby dance, trucca bimbi tombolata, babbo natale, teatrino pasta di sale, macchina sparabolle postazione caramelle giochi, giostre gonfiabili Biglandia, le strade addobbate da grande atmosfera natalizia simpatici gadget in regalo ai bambini stand gastronomici con sfizi vari e nel corso della serata estrazione di fantastici premi in palio e nel corso della serata estrazione di fantastici premi in palio presenta la serata Antonio Miranda Mazza domenica 26 dicembre 2010 in piazza Doria ad Angri in collaborazione con Spettacolando serata l'insegna del divertimento Biglandia 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 domenica 26 dicembre alle 17 piazza Doria piazza Doria non riesco a trovarlo ho già fatto due volte il giro di tutti i canali continua ma sei troppo lento lascia a me il volante ma è troppo veloce come fai a capire che cosa vedi? lo capisco e come l'hai appena passato dietro dietro troppo tardi sono già a 40 rifaccio il giro si fa prima è lì che devo andare ti aspettiamo ad Angri con Biglandia